Una strada veloce da Eboli ad Agropoli per smaltire il traffico infernale sulla costa cilentana. Nella sede della regione Campania si è fatto il punto sul progetto della bretella Eboli-Agropoli in presenza del governatore Vincenzo De Luca e i tecnici dell'ANAS. L'infrastruttura della mobilità che dovrebbe servire a decongestionare il territorio è costata mezzo miliardo di euro, ce ne parla il presidente De Luca. Bisogna tener conto che la fascia costiera cilentana è frequentatissima ovviamente da tutti i nostri concittadini a provincia di Napoli e dell'area nord di Salerno, quindi veramente abbiamo centinaia e migliaia di turisti, di visitatori che arrivano in quella zona. Dunque un'arteria come questa che garantisce un collegamento rapido con la fascia costiera cilentana è di straordinaria utilità. La realizzazione del collegamento stradale non piace alle associazioni ambientaliste che hanno manifestato all'esterno della sede della regione. Non so se gli amici di Lego Ambiente hanno mai provato a raggiungere Capaccio-Agropoli in periodo estivo. Ci vogliono due ore e sono due ore di fila durante le quali le macchine mandano CO2 in atmosfera. Basterebbe solo questo per dire che dal punto di vista ambientale è un'opera di grande sostenibilità.